Da Genova e il mare, che è il claim della mostra, abbiamo delle sculture che provengono dalla Galleria d'Arte Moderna di Genova e un quadro di Pompeo Mariani che è veramente bello, veramente interessante. Ricordiamo che la mostra antica sarà al Porto Antico fino a domenica e venerdì e sabato ci saranno degli interessanti incontri, vi rimandiamo a vedere sul sito www.portoanticogenova.it Grazie